non solo roma le notizie dalla regione con elisa mariani bentornati a non solo roma spazio alla cultura al cinema la musica ai libri temi molto cari ai romani parte ufficialmente il 18 luglio arena aniene il sottotitolo però è molto particolare il cinema cura il territorio questo perché perché c'è un'attenzione importante nei confronti della nostra città del nostro territorio se vogliamo anche un po delle periferie di cosa vi parliamo vi parliamo in sostanza di una rassegna cinematografica molto viva molto speciale particolare che ogni sera racconta un'opera pluripremiata anche nel mondo ma non c'è soltanto spazio per il cinema c'è anche spazio ovviamente per i libri per la musica ci facciamo raccontare qualche dettaglio in più dal da colui che cura la direzione generale di arena e aniene e giulio gargia gargia chiedo direttamente a lui salve buongiorno a tutti buongiorno a tutti giulio gargia allora giusto giulio gargia sì sì esatto lei tra le altre cose giulio mi permetto di sottolineare che ha un curriculum sorprendente perché anche un giornalista un produttore un regista insomma davvero curriculum di tutto rispetto e ora cura la direzione generale di arena niene che questa rassegna cinematografica lo ricordiamo che parte il 18 luglio esatto beh sì tutte questi lavori queste esperienze confluiscono un po nella rassegna perché ovviamente noi dobbiamo diciamo lavorare su tutti questi livelli la comunicazione in particolare uno di questi insomma e questa rassegna è una rassegna che è nata lei sottolineava il cinema che cura il territorio è nata per curare per recuperare da un'idea della direttrice artistica patrizia i terlizi per recuperare un pezzo di parco un pezzo di parco che era stato abbandonato che era in un degrado terribile e che in qualche maniera ecco adesso come si vede qui da quello che state facendo vedere noi ogni estate recuperiamo e ricostruiamo in qualche maniera perché la prima cosa che facciamo è uno sfalcio di tutte le erbe un lavoro di ricostruzione anche diciamo di quello che è il piccolo territorio che noi occupiamo di 2000 metri quadri e cerchiamo di restituire ai cittadini un pezzetto di bellezza innanzitutto ambientale e poi di metterci dentro la bellezza artistica con le nostre iniziative e quindi da qui il cinema cura il territorio per questo questo sottotitolo che secondo me è molto importante di una profondità incredibile no c'è recuperare anche il territorio fornire qualcosa di culturale alla cittadinanza è bellissimo questo no ma abbiamo anche un'altra accezione di questo termine che è quello della cura tra virgolette sociale del territorio noi abbiamo delle delle convenzioni con la asluno che e in particolare col centro di via di salute mentale di via monte tomatico dove i loro utenti quelli che hanno dei piccoli o medi diciamo disagi tipo psicologico interagiscono con noi e alcuni lavorano anche con noi e quindi questa per esempio una cosa di cui siamo molto orgogliosi perché pensiamo che sia un grande diciamo una modalità di interagire con un pezzo di società che non sempre viene messa al centro insomma beh certo un grandissimo passo avanti anche per quello che tutti vogliono no cioè l'inclusione se ne parla tantissimo ultimamente però bisogna effettivamente giulio metterla in pratica no poi questa inclusione e sono bellissime effettivamente iniziative come questo tipo le va di raccontarci un po qualche dettaglio in più no di questa rassegna che andrà avanti fino ad agosto quindi insomma c'è un bel po di lavoro dietro no è enorme lavoro soprattutto da un punto di vista burocratico chiaro perché il comune di roma è una macchina veramente terribile abbiamo 32 autorizzazioni le dico solo questo da 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 comunque detto questo una volta diciamo fatto tutto questo cominceremo il 18 luglio e andremo avanti fino al 18 agosto quindi un mese pieno con cominceremo con un concerto perché ci sono anche dei piccoli concerti di daniele sarelli che è un eseggeta è un anche è amico di rino gaetano ed è un musicista che porta avanti anche la l'eredità di rino gaetano che come qualcuno sa è nato a pochi passi dal nostro parco dove proprio noi facciamo il la rassegna e subito dopo ci sarà il film di più ripremiato di c'è ancora domani di di paola cortellesi se di paola cortellesi e poi avremo nel corso della rassegna appunto una serie di film che sono mediamente diciamo 5 su 7 sono tutti premiati e grandi festival internazionali poi quest'anno abbiamo una novità a parte appunto le nostre wild card scelte da patrizia di terrenzi che è la direttrice artistica e quindi si tratta di film che abbiamo selezionato noi anche se non hanno vinto alcun premio ci sono delle anteprime in particolare c'è un anteprima di un film francese che si chiama stella innamorata il 22 luglio anteprima assoluta abbiamo poi altre due anteprime in contemporanea con l'uscita cinematografica e si tratta di stolen moments che sarà di stefano l'andini un film su jazz e di amici per caso di max nardari che invece sarà in contemporanea alle sale comuni e noi lo proietteremo il 2 agosto ma ecco insomma una rassegna un paio di ospiti importanti come matteo garrone che per rappresentare il suo figlio comandante il 25 luglio e avremo anche una serie di altre iniziative collaterali tra cui le presentazioni di libri per esempio quello di elena basile che parla del momento delle guerre in occidente e dell'atteggiamento e di politica internazionale avremo quello di sergio bellucci sull'intelligenza artificiale avremo quello di zap mangusta che è un autore di filosofia che farà una cosa particolare si chiama succo di nespola dei cocktail filosofici e quindi un racconto a metà tra il servire un cocktail e la filosofia contemporanea in un mix molto particolare che ci sarà molto interessante devo dire che insomma ce l'ha davvero per tutti i gusti c'è insomma c'è cinema c'è musica libri filosofia c'è davvero una cocktail interessante ecco per riagganciarmi a quanto lei ha detto Giulio io la ringrazio davvero di cuore allora lo ripetiamo parte il 18 luglio arena a niene insomma ogni sera una programmazione diversa ovviamente immagino che i nostri telespettatori potranno visionare il programma sul web no me lo conferma Giulio ci sono tre c'è il sito ufficiale che www.arienaniene.it c'è la pagina facebook e c'è il la pagina instagram quindi se ci seguite sui social sarete sempre aggiornati anche perché mettiamo poi avanti spesso a volte capita che bisogna cambiare per ragioni di forze maggiore un film da un momento all'altro e quindi qualche volta ci sono dei cambi di programma certo grazie davvero Giulio è stato un piacere e allora tutti a arena niene dal 18 luglio quindi tra esattamente una decina di giorni grazie davvero grazie a voi a presto bene ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria in programma e torniamo tra pochissimi istanti con uno sguardo attento sul territorio andiamo ad ostia dove c'è già per noi la direttrice di ostia tv silvia tocci che è pronta a raccontarci davvero tanta cronaca una settimana quella che si è appena conclusa davvero ricca di episodi restate qua non solo roma le notizie dalla regione con elisa mariani